Girare una chiavetta e far muovere due palette è arte. Così assicurano gli organizzatori di una mostra astrata aperta ad Hamburgo. Basta con i quadri e le sculture statiche. È il movimento che rende plastiche e irreali le forme. Quindi gli astrattisti sono avvertiti. Non più tavolozze e pennelli colori, ma motorini elettrici che facciano girare vecchie cianfrusaglie. Anche questa specie di occhio che gira fa parte della mostra. Forse il critico preparato e competente lo raffronterà con quest'altra specie di impronte digitali in movimento. E parlerà di pathos e di tormento creativo dell'artista. Sembra, ma la notizia non è confermata, che gli espositori abbiano ricevuto un telegramma così concepito. Se avete coraggio uscite fuori, vi aspettiamo. Firmato Raffaello, Leonardo da Vinci, Tiziano e compagni.